a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione podcast era un bel po' ne facevo i podcast perdonare per l'immagine fissa ma non posso in questo momento un po' di fretta quindi non mi posso mettere lì a sistemarmi eccetera quindi accontentatevi dell'immagine fissa parleremo per poco parliamo dei lupi mannari film originale netflix francese una commedia orrorifica sono per tutta la famiglia perfetto per tutta la famiglia per vedere anche il giorno di halloween se volete qualcosa di leggero per vederlo insieme i vostri figli piccoli con jarre no e con altri attori francesi anzi l'altro attore che non mi ricordo il nome che ho visto in altri film netflix confezione secondo me un buon film commedia per tutta la famiglia si ok copia da giumancio per questa famiglia che finisce nel medioevo con dei lupi mannari che danno la caccia quindi c'è questo gioco da tavolo loro non vanno molto d'accordo fin quando grazie a questo tornare indietro nel tempo si uniranno perché ognuno avrà dei poteri ovvero che ogni personaggio che siano scelti nel gioco avranno queste cose diciamo queste abilità chi sarà invisibile chi chi sarà prenderà diciamo può rubare l'aspetto degli altri il mago che prende niente è jarre no e altri poteri essendo il film è molto molto ben fatto c'è anche se diciamo che ci sono tante tante cose che potranno capire soltanto le persone adulte cioè i bambini certe cose non le capiranno però secondo me è stato anche giusto metterci certe cose che possono venire i più piccoli e certe cose che possono venire anche i più grandi quindi è un film che accontenta un po tutti diciamo gli argomenti che affronta sì ok copiato da jumanji però ci può anche stare i vestiti le scenografie sono fatte bene i lupi un po così sono un po pelusciati sembrano più che far paura a sti lupi sembrano dei pupazzoni che ti verrebbe voglia di abbracciarli a parte che ci hanno dei denti aguzzi ma per il resto possiamo dare l'ok per questo film Netflix ultimamente sta portando qualcosa almeno di decente guardabile e godibile soprattutto quindi dateci un'occhiata anche se non avete figli tanto per passarvi un po di tempo e farvi du risate sicuramente sarà molto più divertente della commedia portata da Amazon ovvero Brothers con non mi ricordo neanche l'attore cacchio Josh Brolin sicuramente sarà migliore e soprattutto perché ci facciano queste cose un po' horrorifiche questi viaggi nel tempo secondo me potrà condentare molte più persone questi i lupi mannari io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale lasciare un mi piace vi saluto a tutti vi ringrazio a tutti e noi ci vediamo sempre a un prossimo video mi raccomando attivate anche la campanellina vi ringrazio a tutti